E buonasera è qui con me la favolosa, anzi no, la Magnifica! Che poi il mio nome non è Magnifica, il mio nome è Magni per le donne, figa per gli uomini. Esatto, esatto. Il nostro personaggio più ironico di questa edizione direttamente dal Friuli Venezia Giulia. Io ho portato il mio personaggio, la Magnifica è baraccona, divertente, regala sorrisi a tutti, infatti poco fa ho fatto una passeggiata e già la gente mi ha riconosciuto, ci ha fatto divertire, ci ha fatto divertire e quella è già la mia vittoria. A me mi hai fatto morire con il pollo che non era un pollo. Perché l'ho dimenticato! No, fantastica, guarda, ci hai regalato veramente di quei sorrisi una grandissima emozione. E ci sei riuscita veramente a pieno, quindi veramente, grazie, sono veramente molto contenta che tu abbia portato la tua simpatia e il tuo personaggio a questo concorso. Tra l'altro io voglio ringraziare te e Zanussi per avermi dato la possibilità di partecipare al Miss Drag Queen. Perché la Magnifica non è vista nel senso che non è una figa, non è bella, ma la Magnifica è questa, è rincoglionita e io ho voluto partecipare. Proprio come la Magnifica e ringrazio voi che mi avete dato l'occasione di salire su questo splendido parco e questo favoloso concorso. Ma grazie a te che ti sei messa in gioco e come tutte le mattine che mandi il messaggio nel nostro gruppo, buonasera, 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 buonasera. E soprattutto la storia dell'alieno, eh! Ciao! Ciao!